Perché in Italia gli e-commerce fanno quasi sempre schifo? Perché non vendono? Perché non riescono ad arrivare nemmeno al 5% di conversione? Alcuni non riescono ad arrivare nemmeno all'1% di conversione. C'è sempre il solito cavolo di errore nella progettazione di un e-commerce e oggi mi bevo una birra e te lo racconto. Io sono Lorenzo Pinna e sono un esperto di esperienza utente. Analizzo i dati degli utenti che il tuo sito web o la tua app stanno già collezionando e riesco a capire i modelli comportamentali comuni per far aumentare le tue vendite e soddisfare i tuoi utenti. Salute! Questo è un riassunto di un articolo che ho scritto nel mio blog lorenzopinna.it L'articolo completo lo trovi giù in descrizione. La prima cosa da dire è che il sito web e-commerce soprattutto non è una roba facilissima da fare. Molte persone pensano che sia una cazzata gigante e dicono ah sì, faccio l'e-commerce. No, avere un e-commerce è come avere un negozio vero, quasi. Poi ci lamentiamo che ci sono un sacco di e-commerce che falliscono, che non riescono ad arrivare nemmeno al 5% di conversione. Poi sei deluso, ti arrabbi e dici che non funziona niente. No, non è che non funziona niente, è che l'hai fatto nella maniera sbagliata, con la mentalità sbagliata. Quindi l'obiettivo di questo video, o audio che sia, è darti la consapevolezza di quale è l'errore più grande che fanno gli imprenditori e i manager. Ci arrivo passo passo e poi te lo dico alla fine di questo video. Intanto diciamo che sviluppatori e agenzie di marketing non giocano una partita a favore dell'imprenditore. Non è che lo fanno perché sono stronzi, certo. Lo fanno per avere meno problemi, per accontentare l'imprenditore. Per l'imprenditore è un costo importante comunque avviare un e-commerce. Però di solito le agenzie di marketing non hanno un solo cliente, avranno 10, 20, 100 clienti come te. E devono ottimizzare i tempi. E diciamo che la prima cosa che vogliono gli imprenditori è che sia un sito figo, che l'interfaccia sia bella, sia stimolante, sulla base delle loro cognizioni. All'agenzia di marketing per la stragrande maggioranza non gliene frega niente se il tuo sito venderà o non venderà. Devono accontentarti, devono portarsi a casa il pane. La cosa brutta è che gli e-commerce fatti da tutte queste agenzie o sviluppatori che vogliono portarsi a casa i soldi sono degli involucri vuoti. Cioè non hanno niente, sono solo belli esteticamente. Non hanno un'architettura che aiuta l'utente, dei colori, una tipografia che si fa leggere, un prodotto dietro promosso in una maniera intelligente. Nulla di tutto ciò. Abbiamo dei copie in colla. La cosa che accade più spesso è che c'è l'imprenditore che ha l'idea di avere l'e-commerce. Va da un'agenzia e gli dice che vuole creare questo e-commerce a sua immagine e somiglianza. E questa agenzia o questo sviluppatore non è che è stronzo, però lo fa fesso e contento. Perché ovviamente andare contro l'imprenditore richiede tempo. Richiede tempo per confrontarsi, per riflettere insieme, per capire il mercato com'è, come sono gli utenti in target, se sono pronti, se sono caldi, freddi. Bisogna capirle certe cose e riflettere. Questo è un costo in più per l'agenzia. Quindi queste agenzie semplicemente eseguono ordini. Ordini di un imprenditore che vuole il bottone rosso, il testo messo così, lo sfondo messo cos'ha, e però gli utenti dove sono in tutto ciò? I clienti dove sono in tutto ciò? E allora, se abbiamo visto come creare un e-commerce che non vende, come si crea invece un e-commerce che vende? Te la faccio molto breve. Non bisogna fare un e-commerce sulle basi delle convinzioni dell'imprenditore o del manager di turno. Sarebbe sbagliato. Certo, ci metti molto meno tempo a fare un sito web, un e-commerce o un'app o quello che vuoi, ma lo stai facendo per te o per gli altri? O per le tue persone? Lo stai facendo per le tue persone. E allora quantomeno dovresti aprirti e cercare di fare ricerca, analisi degli utenti per capire che cosa piace a loro. Se devi vendere a loro, devi piacere a loro. Quindi, come si crea un e-commerce che vende? Basandosi sui dati degli utenti. Non c'è una scorciatoia. Se ti basi sui dati degli utenti, diminuisci anche il rischio di business. Perché il web ha un vantaggio rispetto al mondo fisico. Tutto quello che l'utente fa viene tracciato, viene collezionato, viene registrato. E tu questa strada la puoi seguire e arrivare al tuo obiettivo, ovvero vendere in maniera sana, essere ricordato. I dati possono aiutarti a comprendere meglio i bisogni delle tue persone. E costruire una struttura in grado di soddisfarli. Fornisci una tua soluzione a un loro problema. Bellissimo! La vendita, infatti, è una normale conseguenza dell'empatia che riesci a creare con i tuoi clienti. E se li conosci, sai anche come intercettarli, come incuriosirli e anche come conquistarli. Ma tutto ciò può accadere solo se fai un'analisi dell'esperienza utente. Infatti, la progettazione di siti web, di e-commerce che si basano sui dati dell'utente, è possibile solo grazie all'esperienza utente. E sappiamo scientificamente che analizzare l'esperienza che le persone stanno vivendo online è la chiave per implementare i meccanismi giusti nel tuo sito web. E allora, in cosa consiste l'analisi dell'esperienza utente? Prima di tutto bisogna registrare i dati degli utenti. Forse il tuo sito lo sta già facendo. Bisogna capire se lo sta facendo o lo sta facendo in parte. E quindi, magari, installare altri tool che magari possono essere gratuiti all'inizio che vanno a registrare altre tipologie di dati. Perché abbiamo bisogno di tanti diversi tipi di dati da poter incrociare. Perché abbiamo bisogno di dati qualitativi e quantitativi. E per farlo ti serve competenza. Perché i dati ti fregano subito se non hai esperienza. Ti serve, molto probabilmente, uno UX specialist. Un esperto dell'esperienza utente, praticamente. Questo professionista analizza i dati qualitativi, quindi comportamentali e quantitativi, ovvero numeri, per comprendere i comportamenti degli utenti nel tuo sito web. Semplice. In questo modo puoi individuare quali sono le criticità, quindi quei punti all'interno del percorso di acquisto, di scelta, che non stanno funzionando bene. E li puoi migliorare. Cioè, non è che migliori tutto. Migliori quella parte lì. Nel caso in cui hai già un e-commerce. Nel caso in cui lo devi ancora costruire, puoi costruire una struttura che accolga al meglio questo utente che deve comprare. Generare conversioni ad alto tasso. Ti ho condiviso quindi il motivo per cui moltissimi e-commerce non vendono, fanno schifo, poi li vedi, dici boh, ma veramente questo voleva vendere. E ti ho parlato del ruolo cruciale dei dati. Soprattutto i dati sugli utenti. Quindi se hai un sito, un e-commerce, anche un'app che non sta dando i risultati che desideravi, oppure vuoi creare un progetto partendo con il piede giusto, io posso aiutarti. Ormai è più di dieci anni che mi occupo di esperienza utente e ho già dato una mano ad altri imprenditori come te. Se vuoi capire più nel dettaglio come posso esserti utile per il tuo progetto, sempre in descrizione trovi tutti i miei contatti. Se vuoi rimanere aggiornato sull'esperienza utente e sulle conversioni, iscriviti al canale e seleziona la campanella. Così sostieni anche tutte queste belle cose che faccio. Ci vediamo la settimana prossima con un'analisi di un sito web o un'app da distruggere, da cui imparare. E ti consiglio proprio qui l'ultima analisi dell'esperienza utente che ho fatto su Satispay. Ho trovato quattro errori che stanno distruggendo le conversioni. Guardatelo veramente. E poi qui ti consiglio una guida completa che ho fatto per aiutarti a creare un questionario per gli utenti. È una guida pratica, eh? Progetta responsabilmente perché i tuoi utenti, quelli che paghi, non ti danno una seconda possibilità.